Amici Trevi Meteo, bentornati a questo nostro aggiornamento delle previsioni. Andiamo a vedere come continuerà questa settimana, soprattutto come si chiude questa settimana, perché andremo a vedere fino al weekend. Partiamo però dalle giornate di giovedì e venerdì, quando come forse già sapete, in realtà il tempo sul nostro paese sarà condizionato dalla presenza di un vortice di bassa pressione in quota, una cosiddetta goccia fredda, che porterà molta instabilità. Giovedì forse la giornata peggiore perché i temporali fenomeni saranno più diffusi, in particolare nel pomeriggio temporali in molte zone del centro-sud peninsulare, invece la sera temporali e acquazioni interesseranno molte zone del nord Italia. Si salvano solo le isole maggiori dove le zone di sereno rimarranno ampie. Poi nella giornata di venerdì migliora il nord, ancora qualche fenomeno al centro-sud, ma in generale stiamo parlando di instabilità, quindi piogge non continue. Si tratta di temporali e acquazioni, magari anche localmente moderati o forti, però di breve durata e quindi alternati anche a delle scarite. E comunque verso il fine settimana questa zona di bassa pressione si sposta verso i Balcani e è anche vero che continuerà parzialmente a influenzare le nostre regioni più orientali, quindi le regioni di nord-est, il versante adriatico. Però fenomeni veramente sempre più occasionali e sporadici, quindi nel fine settimana tornano ampie e schiarite, soprattutto sulle regioni di Ponente, ma ripeto anche sul lato più orientale non mancheranno grandi aperture. Le temperature tra l'altro nel fine settimana, quantomeno quelle diurne, risulteranno particolarmente gradevoli, quindi insomma buone notizie, quantomeno per il weekend. Con questo è tutto, ma rimanete con noi per gli aggiornamenti. Il consiglio è di scaricare la nostra app.